cari amici ancora una volta ben trovati sul nostro canale ancora una volta per parlare di filmora ma questa volta la versione 10 è uscito l'upgrade finalmente per la versione 10 in italiano qualcuno all'uscita del precedente filmato mi ha subito commentato dice simo ma guarda che è uscita la versione 10 tu hai fatto il filmato però ti sei fermato la 9 invece c'è la versione 10 ecco in realtà la versione 10 era appena uscita era in beta e la versione in italiano ancora doveva uscire ecco per il motivo per cui in quell'occasione vi parlai della 9 il problema comunque non sussiste perché nella 10 che è una versione sicuramente più matura ritroviamo completamente le funzionalità viste nel filmato della versione 9 con l'upgrade che oggi vi illustrerò un upgrade incredibilmente importante perché implementa all'interno di questo software già di sé assolutamente completo alcune funzionalità mancanti nella versione 9 e che fanno fare un salto da gigante ancor di più che seppur con un approccio apparentemente da principiante porta ad essere il software ad oggi la versione filmora 10 ad un upgrade che consente di lavorare su quelle che erano le mancanze della versione 9 all'interno quindi di questo video vedremo l'upgrade ma risponderò anche ad alcune delle domande che mi sono state fatte gentilmente da alcuni di voi in merito appunto la versione del video precedente chiaramente partiremo con l'upgrade quindi con le novità che sono all'interno della di questa nuovissima versione filmora 10 e poi alla fine vi racconterò vi risponderò alle domande che mi avete fatto tra le altre cose delle domande che reputo assolutamente spontanee giustificate visto che nella mia presentazione che chiaramente non poteva essere un vero e proprio manuale di istruzioni sono sorte ad alcuni di voi e cercherò di rispondere per quanto mi è possibile è chiaro che la visione di questo video nello specifico fa riferimento e si basa sul concetto che voi avete già visto il video precedente che chiaramente laddove non dovesse essere stato visto vi lascio in descrizione perché perché il filmato precedente vi illustra dalla a alla z come ragiona filmora e in questo video invece vedremo solo l'upgrade di questa versione con le sue implementazioni ma ora partiamo immediatamente a vedere quelle che sono le implementazioni di questa versione 10 ebbene eccolo qui ci troviamo all'interno dell'interfaccia di filmora 10 questa versione come vedete non cambia assolutamente nell'aspetto ma cambia in alcune delle funzionalità adesso partiremo con la prima di queste funzionalità che è dedicata al mondo della gestione del keyframe e del ridimensionamento dei frame cioè delle visioni delle nostre schermate all'interno di un filmato per dimostrarvi questa funzionalità vado all'interno di video esempio vi ricordo come già spiegato nel video precedente che filmora integra dei filmati che possono essere utilizzati proprio per questa finalità cioè per fare delle prove anche senza avere sul proprio pc o sul proprio mac dei file già pronti quindi andiamo a prendere alcuni dei filmati che sono stati caricati da filmora stessa all'interno della nostra timeline in video di esempio e adesso vi faccio vedere appunto cosa si può fare con la gestione dei keyframe così come già visto per la versione precedente anche in questa versione facendo un doppio clic sul filmato abbiamo la possibilità di avere delle implementazioni cioè delle correzioni che sono dedicate al mondo del video adesso non sto a rispiegare queste cose che sono state già spiegate è stata implementata però una una label quindi un tab chiamata animazione all'interno di questo tab potete vedere che esiste un tasto aggiungi che si riferisce proprio all'aggiunta di un keyframe con la possibilità di andare poi a regolare la scala quindi la dimensione nel tempo però questa volta quindi ad un certo punto diventa più grande più piccolo oppure ruota ecco infatti c'è la possibilità di applicare poi posizione x y rotazione qui sopra e poi abbiamo opacità quindi questi sono gli elementi che possiamo andare a regolare nel lo scorrere del tempo mentre che la timeline va e vediamo come si fa ok mettiamo che vogliamo far sì che a questo punto dove c'è tra le altre cose il ciclista che sta andando praticamente scorrere davanti alla telecamera vogliamo ingrandirlo rispetto a quello che è il normale frame quindi andremo ad aggiungere un keyframe e vi faccio notare che qui in basso proprio in corrispondenza della clip è stato aggiunto un pallino che sta appunto ad identificare il nostro keyframe andando poi avanti con la nostra timeline decidiamo che ad esempio alla fine questo punto qui vogliamo aggiungere un altro keyframe quindi eccolo qui ci possiamo spostare all'interno dei nostri keyframe con i tasti avanti e indietro adesso in questo caso ce ne sono solo due quindi e qui possiamo decidere che per esempio sul secondo keyframe la dimensione in scala del nostro progetto adesso sto amplificando volutamente a dismisura proprio per fare una sorta di transizione va a crescere vedete che qui sotto si è creata una freccia con un andamento che ci fa capire che c'è una variazione di dimensione o comunque di un'animazione vera e propria vediamo il risultato quindi questa è la dimensione normale quando arriva qui boom si zooma chiaramente questo keyframe può essere modificato al nostro piacimento addirittura andando al 400 per cento ma scendendo per esempio con l'opacità a zero quindi non solo zoom ma contemporaneamente fa un fade out ok vedete questo è un esempio che chiaramente può essere modificato andando a spostare con il mouse direttamente il nostro keyframe togliamo l'opacità a zero così riusciamo a vedere meglio questo effetto che abbiamo creato ok ok e andiamo ad esempio a far ruotare la nostra immagine come facciamo a fare questo sempre dal punto iniziale andiamo sul punto finale quindi ci spostiamo con i tastini qui su e andiamo a far ruotare ad esempio di una percentuale che decidiamo noi per esempio un 260 per cento circa e vediamo il risultato ok adesso sto enfatizzando e portando questo esempio solo per farvi capire cosa ci si può fare chiaramente potete intervallare ulteriori keyframe ad esempio qui aggiungo un keyframe e in questo punto per esempio vado con una scala a zero quindi andiamo a vedere il risultato ok e così via insomma abbiamo capito che la possibilità di keyframe ci dà l'implementazione e la possibilità di far variare nel tempo la rotazione la scala il posizionamento quindi possiamo anche decidere di non vi ho fatto vedere di spostare ad esempio l'asse y piuttosto che l'asse x ok e andare a creare qualsiasi tipo di effetto questa è una delle implementazioni che mancava alla versione 9 upgrade 2 è possibile sulla versione 10 fare un color match che cos'è un color match beh chi conosce altri software spesso e volentieri ha sfruttato questa funzionalità proprio per abbinare avvicinare due colorimetrie molto simili infatti molto spesso può capitare di aver girato magari con temperatura colore completamente diverse o con macchine che hanno colori diverse ecco perché all'interno di filmora così come in altri software ma soprattutto in filmora 10 è stato pensato al color match quindi l'avvicinamento dei colori tra due clip differenti sempre per farvi capire come funziona il tutto andiamo a prendere due clip di diversa colorazione andiamo a vedere le due clip girate in momenti completamente diversi e in posti completamente diversi come si fa a fare il match della colorazione sempre a titolo ad esempio prendiamo un ulteriore clip e l'avviciniamo qui bene ora facciamo tasto destro clicchiamo su corrispondenza colore il nostro software ci porta su questa schermata dedicata al colore che già conoscevamo ma che questa volta ha questo tab aggiuntivo corrispondenza colore e in particolare c'è un tasto dove c'è visualizzazione comparativa si apre un pannello aggiuntivo dove vediamo una clip cioè quella immediatamente precedente c'è la possibilità di quindi scegliere il punto ok e quindi scegliere anche la clip su cui vogliamo appoggiarci noi per comodità scegliamo quella del mare sempre cioè per corrispondenza e clicchiamo su abbina come vedete la clip di destra ha cambiato le sue tonalità avvicinandosi di molto alla clip precedente a questo punto non dovremo fare altro che cliccare su ok ma avremo anche la possibilità di scegliere quanto andare in termini di percentuale e quindi ad avvicinarsi a questa sua corrispondenza a questa sua scelta e quindi possiamo scegliere una percentuale di abbinamento colore scegliamo il massimo e diamo ok quindi questa seconda clip ha preso la colorazione della prima e infatti se andremo a fare un play vedrete che le tonalità saranno le stesse è chiaro che poi le modalità le scelte colore possono essere ulteriormente cambiate facendo un doppio clic e andando poi a quel punto a fare la colorazione come abbiamo imparato a fare direttamente con il primo video nel primo video terzo upgrade legato al mondo del shortcut cioè per la precisione la personalizzazione dei tasti funzione funzione secondo me è molto interessante implementazione molto interessante perché consente di applicare dei comandi direttamente con dei tasti che andiamo noi a selezionare a scegliere come si fa a fare questo si va sulla prima voce di menu e per la precisione a scorciatoie di tastiera ok andiamo qui e come vedete abbiamo tutta una serie di funzionalità divisa per sotto categorie file modifica strumenti vista indicatore miscellane eccetera che possono essere facilmente personalizzate in che modo ad esempio andiamo io ho spesso e volentieri configurato il tasto c come cat sulle mie tastiere e sui miei software quindi anche qui mi fa comodo piuttosto che la funzione dividi impostarla a sci a command b preferisco clicco su preferisco assegnarla al tasto c semplicemente cliccherò sul tasto ok e da questo momento quando io seleziono una clip e clicco sul tasto c avrò automaticamente effettuato un taglio sulla clip corrispondente quindi mi sposto velocemente e c e ancora vado avanti c e come vedete la clip viene tagliata automaticamente posso poi continuare ad operare è chiaro che questa che vi ho fatto vedere è una diciamo impostazione ma potete impostare qualsiasi altra funzionalità questa è una nuova implementazione sempre della versione 10 quarta funzionalità implementato su film ora che ricordo essere secondo il mio punto di vista uno dei software veramente più usabili e dove per usabile intendo facile all'utilizzo che io conosca anche in questo caso gli sviluppatori di film ora hanno pensato alla funzione ducking cioè la funzione che permette di ascoltare la musica in maniera minore nel momento in cui c'è una traccia ad esempio di parlato quindi una traccia che ha più importanza rispetto all'audio musicale che c'è sotto e alzare invece il volume della musica nel momento in cui c'è il silenzio della traccia che di cui che del dello speaker ecco questa funzionalità all'interno di film ora 10 è stata implementata ma è stata implementata con una semplicità di utilizzo incredibile io faccio le stesse cose con altri software in particolare su da vinci esiste appunto questa funzionalità che va implementata facendo tantissimi passaggi implementando diciamo compressori limiter spiegando qual è la traccia a la b insomma un casino abbastanza articolato che su film ora si svolge con due clic vedrete adesso quanto essi allo scopo di farvi vedere il tutto ho importato una mia precedente clip diciamo di presentazione che è all'interno del nostro canale pro mirrorless e vedete che esiste poi sotto una traccia audio ok è chiaro che nel momento in cui simone che è qui su nella traccia in alto va a smettere di parlare la musica deve scendere di volume attualmente se faccio play e gli strumenti conoscere bene gli strumenti potete chiaramente sentire che la musica è troppo alta rispetto a quello che viene emesso come suono da parte mio insomma di colui che parla in questo caso per fare questo esempio adesso quindi andremo a fare a fare un click un taglio e nella parte dove per esempio simuliamo simone che sta in silenzio quindi vado a tagliare la mia clip dal punto a ad esempio al punto b che possiamo scegliere ad esempio qui andando a cliccare sul tasto c che vi ricordo appena da pochissimo impostato e a questo punto scollego l'audio così da poterlo eliminare bene ho eliminato l'audio quindi mi aspetto che in questo punto l'audio della musica sia al livello massimo mentre invece nel momento in cui parlo deve essere sicuramente più basso il livello dell'audio ecco in da vinci basta andare sulla clip che deve avere il livello predominante fare doppio clic cliccare sul tab audio e ad andare a specificare al software su questo flag di abbassare il volume delle altre clip quindi non solo della clip musicale ma di tutto il resto al 50 per cento di default oppure possiamo decidere di farlo di più o di meno adesso vedete che poi man mano che io muovo il cursore vediamo sotto il livello che cambia no in termini grafici facciamo ad esempio un 56 per cento adesso un esempio dopodiché vado sulla clip successiva e faccio la stessa cosa doppio clic scelgo di far ridurre il livello e andiamo ad esempio sempre a un 50 che passa per cento adesso andiamo a fare clic sul play quindi mi aspetto di sentire un volume basso nel momento della musica nel momento in cui parlo e di sentire un volume più alto nel momento in cui vado in silenzio per poi ritornare a un volume basso nel momento in cui vado a riparlare ascoltiamo c'era appunto lo streaming quindi avere questo mini video che sto realizzando è devo dire che è efficacissimo il risultato e che una semplicità e un'inimmediatezza del genere è disarmante rispetto a come questa cosa si fa negli altri software ebbene l'ultima delle potenzialità di questo nuovo film ora 10 è legata al tracking il tracking è una funzionalità che consente di seguire un soggetto e di abbinare lo stesso un'altra clip un'animazione un oggetto un'immagine eccetera eccetera un testo eccetera eccetera un elemento multimediale andiamo a vedere questa funzionalità che anche essa all'interno di altri software è abbastanza complessa addirittura ce ne sono alcuni che non permettono questa funzionalità questa potenzialità e quindi se non eventualmente con software ausiliari quindi andiamo a vedere come film ora ha implementato la stessa in modo veramente semplice ho selezionato questa clip derivante da uno dei miei vecchi videoclip in cui c'è questa ragazza che parla al suo fidanzato e come vedete lei muove la testa ecco a titolo di esempio utilizzeremo la ragazza stessa come oggetto del nostro esperimento e andiamo a fare subito l'operazione facendo un doppio clic sulla traccia all'interno del sezione video troviamo tra le varie cose che già conoscevamo monitoraggio di movimento quindi clicchiamo su questo check e vedete che si è abilitata questa casellina e in particolare nella nostra visione dello schermo abbiamo il riquadro che possiamo selezionare trascinare sull'elemento che vogliamo seguire in questo caso il nostro soggetto possiamo quindi modellarlo a nostro piacimento quando siamo pronti dovremo semplicemente cliccare su inizia monitoraggio il software inizierà a seguire passo passo il nostro soggetto andando a tracciare lo stesso e riconoscendo quindi a fronte vedete lo stesso una un movimento adesso dobbiamo semplicemente abbinare qualcosa al personaggio e per far ciò andiamo su do ok qui e vado a selezionare dal tab elementi uno qualsiasi degli elementi appunto in che in questo caso per facilità e per velocità utilizzerò il wow lo mettiamo qui ma qui potete selezionare come vedete qualsiasi altro elemento un titolo un transizione un effetto eccetera un qualsiasi elemento che starà poi sovrapposto al nostro clip andiamo a regolare la velocità di questa clip la lunghezza della stessa così che possiamo chiaramente averla su tutta la clip bene torniamo con il doppio clic dove eravamo prima come vedete è possibile aprire questa casellina e selezionare un elemento da importare direttamente dal nostro mac quindi potremmo importare una foto un elemento multimediale eccetera oppure lui riconosce ciò che è già in presente in timeline ad esempio il nostro wow lo clicchiamo viene questo wow viene chiaramente adesso lo vedremo comparire perché è un'animazione e lo possiamo andare facendo doppio clic sullo stesso lo andiamo a posizionare sulla testa della ragazza in questo modo bene diamo ok e adesso facendo clic sul play vedremo che l'elemento multimediale si muoverà insieme alla ragazza stessa vedete quindi sta seguendo il tracking impostato mantenendo la sua posizione di sicuro una potenzialità veramente attraente affascinante e veloce da implementare differentemente da quanto siamo abituati a vedere negli altri software penso ad after effect penso quello che si può fare su da vinci ma è addirittura quello che non si può fare perché questa funzionalità per esempio non è presente su final cut quindi complimenti film ora per avere implementato in maniera semplice veloce ed intuitiva assolutamente ripeto vedete come le cose vengono fatte con due click velocissimamente e quindi assolutamente tanto tanti tanti complimenti a chi implementa queste funzionalità su film ora ebbene abbiamo visto ciò che caratterizza e che differenzia film ora 10 dal 9 tutto il resto è rimasto invariato un software veramente completo già di suo ora vado come promesso a rispondere ad alcune delle domande che mi avete fatto nel precedente video che vi ricordo vi lascio in descrizione così che possiate poi vedere il diciamo il video stesso e quindi avere una panoramica più completa via ricordo ancora che vi lascio anche sempre in descrizione del del video la possibilità di andare direttamente sul link dove si può scegliere di acquistare il software che tra le altre cose è in promozione per questo periodo vi ricordo che film ora è uno dei software più economici che esistono al mondo e che lo stesso può essere acquistato in maniera diciamo perenne o ad abbonamento mensile con una piccola differenza allora andiamo a vedere le domande che mi avete fatto intanto la prima domanda che mi fate tra quelle che ho selezionato c'è ma film ora lavora in multicam purtroppo no questa è una delle mancanze di film ora che spero che nei prossimi aggiornamenti venga implementato anche perché è una funzionalità abbastanza diciamo conosciuta e utilizzata sugli altri software c'è da dire anche che film ora nasce come software per l'editing molto veloce ed immediato e un multicam clip è di norma un'operazione che si fa in contesti un po più evoluti quindi diciamo che è una mancanza che però può essere tranquillamente come posso dire risolta lavorando con più tracce e sincronizzando a mano e poi a chiudendo e aprendo le tracce in sovrapposizione rispetto alla base poi una seconda domanda ma una volta acquistato può essere installato su diverse macchine o solo su una in particolare lui fa riferimento questa persona fa riferimento al fatto se poteva essere implementata sia su una macchina pc che mac purtroppo no i costruttori di film ora hanno pensato che una licenza possa essere valida come versione o per i mac o per i pc cioè non si può installare separatamente e acquistare una sola licenza è necessario avere una licenza per windows e una per mac c'è da dire anche che il costo è talmente basso che due licenze in fondo costano di meno di una di un qualsiasi altro software quindi ci può stare che film ora metta questo tipo di paletto soprattutto tra sistemi operativi diversi un'altra domanda che mi è stata fatta è in relazione a una combinazione tasti che può aiutare a spostare le tracce tra un livello e l'altro cioè guardiamo qui sul monitor per capire meglio questo esempio possiamo tranquillamente spostarci su un punto del nostro montaggio ad esempio questo selezionare la clip cliccare sul tasto c nel mio caso ma di default vi ricordo che è command b quindi vado a effettuare un taglio eccolo qui ho effettuato un taglio a questo punto se voglio spostare questa traccia sotto e essere sicuro di essere posizionato lo stesso identico punto basterà trascinare la clip con il mouse e non dobbiamo aver paura di non andare a prendere il punto preciso di dove era posizionato prima perché come si può vedere il mouse viene il movimento viene aiutato dal magnetismo a fronte dei vari tagli e quindi dei vari punti dove ci sono i tagli e in questo caso chiaramente il taglio corrisponde perfettamente a dove ho posizionato il ho fatto il taglio stesso e quindi spostandomi in basso non potrò che ricadere nello stesso punto questo è diciamo quindi la risposta è no non c'è almeno che io abbia trovato non c'è una combinazione di tasti ma magari c'è anche non lo so non la conosco io però fondamentalmente con il mouse ti puoi muovere senza avere il rischio appunto di perdere il punto di aggancio preciso da dove era nata prima la clip un'altra delle domande che mi viene fatta è è possibile esportare un montaggio fatto in film ora verso da vinci per fare la coro la color sul secondo software quindi su da vinci purtroppo no non esiste l'esportazione in file xml vi ricordo però che film ora nasce come software diciamo non a livelli iper professionali ma ripeto con l'intento di aiutare le persone ad essere veloci nei propri montaggi rispetto a quanto si debba e si può fare su altri software la funzione xml exporting non esiste poi mi viene chiesto se esiste una possibilità che molti fotografi stanno cercando di utilizzare sull'ipad questo quest'app ebbene sì esiste questa funzionalità un altro degli utenti a se non ricordo male mauro preda ha risposto e ha fatto presente che esiste una versione appunto sia per android che per mac io e ios e vi lascio anche di questi link direttamente qui sotto in descrizione e ancora mi si chiede come faccio a regolare la velocità di una clip mi sembra di averlo già spiegato nell'altro film filmato in film ora nuova e comunque mi basta cliccare sulla clip poi alt più tasto r e come vedete automaticamente viene a comparire una traccia azzurrina sopra la traccia che consente appunto andando alla fine della stessa di con il mouse trascinare in avanti o indietro andando così a regolare la velocità della clip stessa un'altra delle domande che mi viene fatta è è possibile impostare una timeline quindi un progetto con una dimensione diversa da quella preimpostata o comunque dei preset preimpostati beh vi ricordo che sì comunque è possibile anche se con due passaggi fondamentalmente si va sul nostro progetto possiamo andare su file nuovo progetto e qui abbiamo come sicuramente hai visto te i preset widescreen 1 1 9 sedicesimi 4 testi 21 noni mettiamo nella scelta su 21 noni a questo punto posso cliccare qui sul monitor al lato e come già spiegato nel precedente video dedicato a film ora 9 posso cambiare l'aspetto del mio progetto andando a specificare nuovamente dei parametri o personalizzare gli stessi andando poi così a dimensionare a mio precedimento sia la proporzione che la risoluzione del filmato e ancora mi viene chiesto è possibile caricare delle loot all'interno del nostro del nostro gestione colore assolutamente sì infatti è possibile adesso vado a prendere una clip importiamo sulla nostra timeline e andiamo in doppio clic gestione del colore qui vi ricordo che abbiamo la casellina loot e all'interno della stessa possiamo scegliere una loot preimpostata oppure carica nuova loot a questo punto andiamo nel pool nella posizione dove troviamo le loot carico ad esempio questa che ho trascinato qui attivo ad esempio carico a app in porta e vedete che è cambiato la colorazione della mia diciamo timeline del mio file e quindi ho potuto scegliere una loot esterna preimpostata magari da una casa madre alternativa qual è il numero massimo di tracce di una timeline non c'è numero massimo potete incolonnare quante tracce volete senza problemi e l'altra domanda se volessi applicare un effetto filtro come ad esempio un aumento di guadagno volume su tutte le clip come faccio allora anche qui esiste la possibilità di fare questa operazione semplicemente andate adesso a titolo d'esempio vado ad applicare un effetto su questa clip sia di carattere audio ad esempio andiamo in dissolvenza in uscita vado a creare una dissolvenza in uscita vado a equalizzare filtro rock vado ad aumentare il livello e impostiamo una saturazione al massimo del valore se adesso importo una serie di altre clip sempre a titolo d'esempio avevamo applicato le colorazioni su questa clip che vi ricordo essere più satura con volume massimo eccetera a questo punto se andiamo a fare tasto destro vediamo che qui abbiamo copia effetti e incolla effetti quindi basterà cliccare su copia effetti spostarci sulla clip dove vogliamo incollarli tasto destro incolla effetti e automaticamente avremo aumentato la colorazione nonché il volume della clip ebbene quindi io sono arrivato alla fine di questo secondo video dedicato a film ora nella fattispecie a film ora 10 software che vi ripeto essere tra i più semplici e più se vogliamo completi nell'ottica di un montaggio veramente semplice e veloce da fare addirittura attraverso ipad quindi dispositivi mobili io vi ringrazio se chiaramente avete delle domande potete farmele sotto il video vi ringrazio vi lascio al prossimo aggiornamento su questo software